siamo con robert antonioli in occasione di ski pass modena avete ripreso la preparazione anzi non vi siete mai fermati diciamo avete ritrovato la neve quindi quali sono state le tue prime sensazioni sì ciao a tutti sensazioni sulla neve non proprio delle migliori sicuramente ricominciare a sciare dopo lo stacco estivo è sempre complicato soprattutto anche perché le nevi non sono sempre facili da gestire in fuori pista le gambe comunque ci sono e ci stiamo allenando al top per riuscire a presentarci alle prime gare già in forma e cercano di già di mettere dal filo da torcere agli altri avversari qual è il tuo obiettivo in vista della prossima stagione obiettivi in vista sono parecchi e c'è la coppa del mondo generale come tutti gli anni e quest'anno si correranno anche i mondiali e quindi cercheremo di far bene la gara individuale dei mondiali sicuramente gli avversari saranno tanti e tutti volonterosi di vincere quindi sarà sempre dura come come sempre ancora una volta uno dei tuoi principali avversari sarà uno dei tuoi migliori amici michele boscaggio sicuramente da un po di anni che ci contendiamo la coppa e da tre anni che siamo lì primo secondo primo secondo speriamo che stanno di giocarci tra di noi sicuramente così a freddo non si riesce a capire come andrà la stagione sicuramente noi ce la metteremo tutta e vedremo come andrà a finire senti cosa ti è mancato secondo te lo scorso anno in particolar modo nelle in quella che era la tua specialità le le sprint ma diciamo che l'anno scorso mi sono concentrato su altre gare sulla gara individuale e sicuramente dove sono andato meglio l'anno scorso sono riuscito a portare a casa quella coppa di specialità che mi mancava e a cui lo sciarpinismo tiene di più che la gara principe penso io la la gara individuale e sotto mi sono focalizzato su quella gara lì sicuramente per la coppa del mondo generale anche un po di sfortuna visto che non ho controllato bene al massimo i materiali e per cinque grammi non sono riuscito a gareggiare nella nella mia specialità sprint diciamo quella è stata un po una una beffa è un buona beffa volevo giocarmela sul campo con boscacci non sono riuscito mi sono demoralizzato veramente tanto però mi sono riscattato la domenica il giorno dopo dalla sprint concludendo in prima posizione con un bel risultato è l'ultima cosa si parla tanto della possibilità che l'italia ospiti le olimpiadi del duemila e ventisei sarebbe un'opportunità forse anche per lo sci alpinismo io spero che l'italia prende le olimpiadi che che sicuramente sarebbe un bel trampolino di bilancio per noi italiani dallo sci alpinismo e tutto dipende dalla politica come gira se la politica lavorerà bene sicuramente i posti candidati in italia sono veramente spettacolari e devono prendere le olimpiadi grazie mille